Professor Vecchiette, qual è la situazione a pochi giorni dal termine delle feste? Reparti ospedalieri pieni, reparti riconvertiti alle Covid? Insomma, la situazione non è sicuramente semplice. No, diciamo che è avvenuto quello che immaginavamo. Mi sembra che sia un dato non soltanto locale, ma assolutamente regionale e nazionale. Inoltre, gli ospedali hanno di nuovo dovuto riconvertire delle strutture dedicate ad altre patologie perché l'affluenza dei pazienti con grave insufficienza respiratoria è progressivamente aumentata. Per quanto ne avremo ancora? Se si può dire, Professor Vecchiette. Guardi, io questo francamente non glielo so dire. Spero poco e innegabile che però la curva dei contagi diminuisce e aumenta anche in base ai nostri comportamenti. Ci sono anche delle nuove cure che sono state introdotte negli ultimi mesi. Come stanno rispondendo? Guardi, sicuramente abbiamo avuto ottimi risultati sull'utilizzo degli anticorpi monoclonali e poi c'è da pochi giorni una nuova opzione terapeutica. La terapia orale è una terapia orale. Sono delle compresse che dovrebbero agire inibendo la replicazione del virus. E questo dovrebbe dare un vantaggio sulle cure domiciliari. La terapia si fa per cinque giorni. Noi abbiamo già incominciato a proporla ad alcuni pazienti. Devo dirle in maniera pratica, l'unico limite è che è tanto più efficace quanto prima viene iniziata dall'inizio dei sintomi. E questo è un po' un limite. I numeri, professor Vecchietti, dicono che l'Abruzzo è al limite della zona arancione. Insomma, cosa c'è da aspettarsi? Ma, le ripeto, io non ho una sfera di cristallo. Ritengo che appunto se da parte di tutti c'è una maggiore attenzione rispetto ai comportamenti individuali, quindi mascherina, distanziamento, sanificazione delle mani, ma più di tutti la vaccinazione. Quindi la terza dose che si è visto che protegge e riduce anche la diffusione della trasmissibilità del virus. Ma soprattutto per chi non avesse fatto il vaccino, è veramente arrivato il momento di vaccinarsi. Per chiudere, se ne sta parlando tanto, la riapertura delle scuole. Ci sono favorevoli e contrari? Qual è la sua posizione? Ma, guardi, nei prossimi giorni capiremo se è stata una manovra corretta o imprudente. È chiaro che se i focolai dovessero aumentare, dovessero veicolare il virus nelle famiglie, e a questo punto noi rischiamo che a seconda se in famiglia i soggetti sono vaccinati o no, potremmo avere di nuovo un impatto importante sull'ospedale, perché non essendo vaccinati e magari avendo anche motivi di fragilità, avrebbero probabilmente bisogno della ospedalizzazione. Quindi questo lo capiremo nei prossimi giorni. Io devo dirle personalmente in maniera prudente, avrei preferito che per almeno un paio di settimane venisse evitato il ritorno dei ragazzi a scuola.